Azione Salute presenta la nuova linea di elettromedicali. I nostri elettromedicali sono dispositivi medici certificati e detraibili per uso domiciliare. Abbiamo magnetoterapia a basse frequenze, tecarterapia e ultrasuonoterapia. Sono disponibili alla vendita e al noleggio in tutta Italia. Magnetoterapia a basse frequenze, la nostra magnetoterapia è un dispositivo medico certificato e detraibile con ben 25 programmi già installati. Due solenoidi comodi e leggeri da applicare in ogni parte del corpo attraverso delle fasce autovecranti. La magnetoterapia ha quattro funzioni principali calcifica, riduce gli edimi, rivascolarizza e riattiva il naturale processo cellulare. Nella pratica valigetta che vi verrà consegnata troverete il dispositivo, il caricatore, le comode fascette autovecranti, i solenoidi e un manuale con i 25 programmi già installati e le immagini d'applicazione dei solenoidi. Per accendere il dispositivo tenere premuto il tasto power, alla scritta programmi premere enter, dopodiché partono i 25 programmi. La magnetoterapia ha una batteria con autonomia di 8-10 ore. Quando la batteria è scarica vado ad attaccare il caricatore nella parte superiore. Con la magnetoterapia avete la possibilità di avere un'altra coppia di solenoidi per trattare le zone speculari come caviglie e ginocchia e anche di un comodo tappetino sulla quale sdraiarsi per trattare la zona dorsale e lombare.